Non solo atti di stalking nei confronti della ex fidanzata, ma anche la minaccia di sfregiarla se non fosse tornata con lui e non avesse ritirato la denuncia presentata. Una serie di comportamenti vessatori nei confronti della ex che sono costati l'arresto con applicazione dei domiciliari a un uomo residente a Gela. Stando a quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato della città del Golfo, l'indagato, non accettando la fine della storia con la donna, aveva iniziato a perseguitarla, appostandosi sotto l'abitazione di quest'ultima e seguendola continuamente quando usciva di casa, oltre a inviarle messaggi in maniera ossessiva. Comportamenti che, secondo la tesi investigativa, avevano impedito alla donna di condurre una vita serena, tanto che aveva deciso di denunciare l'ex compagno. Ma l'indagato, sempre secondo la ricostruzione dei poliziotti, era tornato alla carica chiedendo alla ex di ritirare la denuncia e di tornare insieme, altrimenti l'avrebbe sfregiata rendendola irriconoscibile.